YUMMY FABBORDS MUTTAFUCCA Ciao a tutti ragazzi, sono Cassie e benvenuti in questo nuovo video Siamo qui oggi in questo nuovo video, in questo primo video di questa nuova serie che... non so come si chiamerà, ma... dettagli Comunque, questa nuova serie... che cosa faremo in questa nuova serie? Praticamente, come vedete dallo schermo, siamo in un semplicissimo server PvP E semplicemente, a me cosa faremo? Cioccheremo in questo server PvP, amasteremo gente, moriremo tante volte, sclerando come non so cosa E praticamente, se avete visto il mio video aggiornamento, in questo video aggiornamento vi chiedevo di propormi delle sfide in caso di morte o in caso di kill E... semplicemente... ogni volta sceglierò una sfida che riguarda una morte, una kill, magari tutti e due Ecco, magari la prossima volta è meglio se... provate a commentare sia per una sfida in caso di morte, sia per una sfida in caso di kill Così magari ne cerco due, c'è più possibilità Semplicemente... e quindi... questa sera è stata questa Info, mi farò vedere in webcam così farlo vedere Facciamo mentre... faccio questa sfida, cioè... affronto questa sfida Va bene, lasciamo perdere E... semplicemente... eeeh... a questo... eeeh... per questo episodio ho scelto la sfida di... marzi... eeeh... no... eeeh... 92-16 Eeeh... praticamente ci ha fatto questa... proposto questa sfida Sfida picciosa, che è se ti propongo una sfida ogni volta che muori devi mettere in bocca un marshmallow e dire chubby bunny uh, huh, huh, Huh... beh niente Semplicemente... ehm... io e mushrooms ce li ho Ec莫 che i mushroom www Comprate adesso Eeeh... i puffi Eeeh... i semplici vestrihn insanlarli Eeeh... se no, io appreel assets quindi aprirò Madonna quanto stanno buona E effectivement Adesso prenderò il mio bellissimo telefono Un bellissimo sfondo Ok eeeh... mh Eeeeh... e qua c'è il timer Decterò 5 minuti di timer E semplicemente farò partire il timer Adesso farò partire il timer Ed ogni volta che muoio Quindi dovrò mangiare di questi marshmallow E direi c'è Big Bunny Quindi quando poi scadano in 5 minuti I video diciamo finirà Cioè se faccio 5 minuti di sfida Ok quindi questo serve praticamente Bisogna entrare, scegliere un kit E sceglie questo perché Sì, devo già mangiare, madonna What? Ma sto lagando? Buono, vabbè Comunque, quindi io Faccio partire il timer 3, 2, 1, 5 minuti Mangiamo subito perché Ok perfetto, quindi ogni morde Devo mangiare un marshmallow E 10 Big Bunny Terrorist, ciao terrorist Eccolo, madonna Diciamo che non l'ho ammazzato perché Alla fine Si è fatto esplodere Quindi non ne metto E magari metto anche una cosa tipo Con tutte le kill Ecco, quello, 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 quello Guardalo, guardalo, guardalo Ancora, 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 ancora Sì Bella, grandissimo, grandissimo Grazie mille per la roba Toccio pure le pozioni di danneggiamento Allora, 1, 2, 3, 4 No Eeeh, c'è la mela power Ok, cazzo Ok, parte Il marshmallow Vedete Sono bellissimi questi marshmallow Ok Ci apri i banni Così Ma, ma non ho capito Se devo tenermelo per tutto il video O no Beh Non lo so È troppo buono Io lo mangio Perché niente Da una scena Da questo pazzo qua Quando sponi È una roba assurda Oddio Oddio Oddio, ma quanto Ma che Ma sto tizio larga poco Mi dicono, eh Eh, va a cagare, va Non c'ho dei banni Siamo a due Mmm Provo il cavallo Vieni qua Guarda, guarda Guarda, guarda No, non ho piaciuto la roba No I clear lag Che merda E siamo a due Bella, bella, bella No, no C'ho un cuore, oh mio dio Provo, dimmi che mi sto seguendo Cazzo Corri Porco puttano Porco puttano Corri Corri come se non ci fosse un domani Corri, corre, corre Non posso morire adesso Oh cazzo Mi stanno brecchiando Oh merda Oh merda Oh merda Corri come se non ci fosse un domani Ti prego, ti prego, ti prego Merda Ok Perfetto Oh merda Oh merda Oh merda Corri, corri, corri Corri, corri, corri Corri, corri Oh cazzo Perché vedo la gente tipo stonarsi di qua e di là Non mi sta seguendo No Forse si Non so Devo mettermi l'armatura Non posso continuare a girare così intorno Ok Perfetto Ok Perfetto Madonna che colpo mi sono piata Muori, 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 muori Sì, 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 sì No, 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 no Corri, 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 corri Madonna, 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 corri Eh che devo mangiare Oh cazzo C'è il tuo cuore Ok Perfetto Non si pisa da me Non manazza la gente Se no che divertimento c'è Oh Cazzo c'è due cuori Sì Sì L'Archer L'Archer Bell L'Archer Archer E da lei non so più parlare Bella Poi amo questa spada Che tipo È una spada d'oro Ma c'è tipo il cosa Quello per il fuoco Quindi GG Ok Ho perso già il conto delle chi Ma Vabbè Dettagli Mi sono detto lo schermo Quindi non so neanche quanti minuti siamo Ok Più che altro Ho quasi finito Vai su Vabbè Facciamo più cinque minuti Facciamone Cioè Facciamone Tipo altri No Facciamone altri tre o quattro Facciamo altri quattro Anche tre No Quanto cinquantotre minuti No Oh merda Oh merda Oh merda No Corri 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 No 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 Blitz 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 Don't kill me Blitz Non so se si può Madonna Quanto c'è schifo con l'arco Madonna Mi piace schifo da sola Ma dettagli Ok con calma Oh Merda Mi fa Mi fa Mi fa Mi fa Merda Non c'è altro Non c'è altro Non c'è altro Marshmallow C'è più banni Forse però Non so che volevo Diceva che dovevo Tenere in bocca Marshmallow Non lo so Merda Corri 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 Ahia Che mica vuoi Guarda Guarda come si fa Oh cazzo Eh vabbè Facciamo i banni Non siamo qua Trovo Madonna Nasce nello schifoso È veramente Un bordello È qualcosa Diogo Oh Perché ne c'è Salta c'è una sete vicenda prendiamo un ninja ok ovviamente è un kit con una spada in pietra però c'è la velocità funicista un merdo corre si 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 ok perfetto quindi adesso aspetta abbiamo una finta roba non c'è questa è una ventana io che l'ho d'accesso poi questa qua questa qua questo qua ah perfetto bisogna in zona nasa per rinferirmi ma si in zona nasa per rinferirmi ma schmallow oh che c'è l'ho d'acqua eh vabbè ma fate 3v1 eh fate 3v1 merdine oddio oddio ok perfetto corri corri ok perfetto ok ok no c'è l'ho d'acqua no c'è l'ho d'acqua no c'è l'ho d'acqua no c'è l'ho d'acqua ok perfetto madonna sto per morire nooo non provare a toccarmi ti ti finisci male eh ecco infatti ecco infatti filo il timer adesso faccio questo ultimo kill a meno che non mi killa lui no ok vabbè dai moi vabbè dai zitto zitto timer voglio ma stesso tipo madonna mi sto troppo sul cacchio vabbè stai fermo stai zitto stai zitto vabbè teniamo conto così col ferro ok teniamo conto così col ferro oddio uno è andato oddio oddio me ne sono fatti due cacchio vabbè c'è l'ultimo marshmallow c'è l'ultimo marshmallow quindi niente ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto ok lasciate un like se vi è piaciuto se vuol dire così se vi continui proponetemi delle sfide qua sotto con il con la tag sfida pucciosa quindi hashtag sfida pucciosa e magari se volete riponetemi un commento con una sfida per una in caso di una morte e con una sfida in caso di 5 kill una o due tre quante volte voi basta che ne proponete cose ne proponete cose ne proponimeli va bene ok quindi niente ragazzi ci vediamo questo video che vi è piaciuto e al prossimo video ci ciao 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 ciao